Settimana scorsa a causa di un mio errore nella programmazione di video non è stato pubblicato alcun video su questo canale e per farmi perdonare ho fatto per oggi una puntata un po' più complessa più che altro perché ho dovuto ricercare tante informazioni e metterle un po' assieme l'obiettivo di questa puntata è cercare di risolvere un po' l'annoso problema di qual è la differenza tra Stout e Porter se ce n'è una e quali sono le linee guida che principalmente il BJCP e altri istituti indicano come differenza tra Stout e Porter questo oggetto affusolato qui censurato che vedete davanti a me è una bottiglia no non ci troviamo ahimè in un film giapponese per adulti so che lo stavate pensando no si tratta di una bottiglia perché vorrei fare questo piccolo gioco ossia provare prima di vedere appunto quali sono le differenze Stout e Porter a fare una veloce e il più possibile oggettiva e sintetica descrizione di questa bottiglia senza dirvi che cos'è la versora proverò a fare un'analisi descrittiva molto rapida e vi chiederai di provare a indovinare qual è lo stile di questa di questa birra una Stout, una Porter o uno dei tanti sottostili che vedremo appunto tra poco a fine puntata vi dirò che appunto che birra è, che bottiglia è e vediamo se il produttore appunto la indica come Stout, come Porter o uno dei vari sottostili beh direi che chiederai alla regia di mandare la sigla così intanto ne approfitto per aprirla ok allora vediamo quindi la birra quiz che cos'è cominciamo quindi dall'analisi descrittiva colore della birra, allora la birra è perfettamente nera, ebano, corvino comunque un nero davvero davvero molto molto intenso e impenetrabile colore della schiuma, la schiuma è fine, colore nocciola non particolarmente persistente perché pian piano si sta smontando naso, intensità aromatica elevata, che cosa emerge? diverse cose principalmente frutta secca, cacao un pochino tostato ma tra tutti questi sicuramente frutta secca un leggero alcolico e più che alcolico frutta rossa sotto spirito passando in bocca, gusto prevalente probabilmente dolce ma c'è un buon equilibrio dolce amaro l'amaro arriva solo a fine della bevuta e l'apertura è sicuramente molto dolce sempre per quanto riguarda il gusto più o meno le stesse cose del naso un po' di torrefatto sicuramente cioccolato, un po' di vaniglia i lupoli ci sono solo appunto in questo amaro finale non ci sono prima, non ci sono neanche al naso corpo direi un buon corpo medio o anche più di medio e sicuramente una buona alcolicità così senza guardare il grado alcolico direi sicuramente superiore agli 8 gradi e mezzo o anche 9 gradi probabilmente quindi un buon warming anche in bocca sicuramente una birra complessa piuttosto forte sia proprio come corpo e con un finale anche bello lungo fate le vostre considerazioni pensate quale stile potrebbe essere o sottostile potrebbe essere questa birra se volete scrivetelo già nei commenti o tenetevi la mente e vediamo alla fine che cosa i produttori hanno scritto sull'etichetta e cosa secondo noi invece è o se stiamo d'accordo o in disaccordo con i produttori bene, passiamo quindi all'argomento della puntata quindi differenze tra stout e porter vi preciso che la maggior parte del materiale l'ho recuperato da tre diverse fonti la prima è questo vecchio numero di Fermento Birra Magazine su questo numero c'è in particolare un articolo di Simone Cantoni che a sua volta ha fatto un bel lavoro di ricerca da materiale inglese tra cui cita lo storico Martin Cornell e fa appunto tutto un escorso storico molto interessante che ci aiuterà a capire meglio queste differenze poi come seconda fonte naturalmente il BJCP e anche il sito e il relativo malloppone che rilascia quasi ogni anno il sito è l'associazione americana Brewer Association e fa una sorta di BJCP cioè di linee guida per i diversi stili alcuni stili sono simili al BJCP su altri stili fa delle differenze comunque anche lì un bel po' di materiale molto interessante da leggere quindi passando alla storia mi sono preso un po' di appunti dove nasce questo stile e quando allora siamo in Gran Bretagna diciottesimo secolo, 1700 quindi in quel periodo le birre sono tutte essenzialmente delle brownie, delle birre brune la cosa interessante è che così come in altre parti del mondo non esistono tanto gli stili che conosciamo oggi anzi la maggior parte non esistono proprio ma i nomi delle birre non sono legati cioè i nomi degli stili sono più che altro legati al luogo di provenienza cioè dove viene brassata quella birra così abbiamo le Barton Ale le Oxford Ale che vengono fatte a Oxford e così via le birre in questione erano quasi tutte brune perché il grist cioè l'insieme dei cereali scelti per fare il mosto di quella birra nelle diverse ovviamente percentuali il grist era composto principalmente bisognava fare un compromesso tra i malti chiari i cosiddetti pale ale e i malti brown questo perché i malti più chiari hanno un'alta capacità di saccarificazione quindi si può essere tanti saccaridi tanti mono e polisaccaridi ovviamente se estraiamo tanti zuccheri piccoli questi verranno fermentati dal lievito se estraiamo tanti zuccheri a catena lunga questi daranno corpo, daranno dolcezza ma non verranno trasformati in alcol dal lievito e appunto il compromesso tra i malti chiari e i malti brown i malti brown sono utilizzati perché hanno delle note aromatiche gustative dei flavor molto particolari e interessanti e caratterizzanti i malti brown tra l'altro davano questo sapore perché venivano spesso fatti maltare su fiamma diretta quindi fiamma che scala direttamente il metallo sopra il metallo c'è il malto ad asciugare che in parte si bruciacchia fa tutte quelle reazioni di Maillard che oggi noi conosciamo bene quindi dà a livello proprio gustativo, aromatico, olfattivo delle note molto interessanti quindi birre brown perché è compromesso tra malti chiari poco interessanti dal punto di vista aromatico ma molto buoni per gli zuccheri e malti brown più difficili da utilizzare per l'estrazione degli zuccheri ma molto più interessanti dal punto di vista gustativo aromatico sempre perché stiamo facendo un'introduzione storica scusate ma intanto mi sto bevendo questa birra in quel periodo c'è anche una bella distinzione tra le ales e le beer questo è interessante perché il termine ale è un termine appunto anglosassone il termine beer è un termine germanico e fino appunto a credo al 1700-1800 ale indicava le birre con poco o senza luppolo o con comunque altre tipologie di pianta utilizzata in fase amaricante al posto del luppolo mentre le beer erano tradizionalmente le beer dove il luppolo era importante ricordiamoci infatti che il luppolo ha vinto la guerra la competizione con gli altri aromatici con le altre piante aromatici con gli altri prodotti o mix di prodotti utilizzati per aromatizzare la birra in Germania l'ha vinta perché nel 1516 se non erro è entrato in vigore Rheinzgebot che ha per legge scelto, imposto, anzi non scelto, ha imposto che appunto bisogna utilizzare solo il luppolo in produzione della birra e quindi appunto le ales indicavano quel tipo di birre con poco o zero luppolo le beers con il luppolo oggi però facciamo attenzione perché oggi ale indica birra ad alta fermentazione mentre il lager che è il termine tedesco indica le birre a bassa fermentazione quindi due specie differenti di lievito sempre per stare appunto sul tema degli stili e delle varietà di birra un'altra distinzione in particolare che veniva fatta in quel momento ed è da lì che deriva la definizione di porter e soprattutto di stout è quella relativa alla tecnica di brassaggio e soprattutto della fase di ammostamento perché dal tino di ammostamento, quindi cereali maltati in acqua venivano ricavati tra diversi mosti il primo veniva semplicemente raccolto per gravità, per densità quindi cereali, acqua, un filtro l'acqua che percolava per gravità da questo primo tino o meglio di questo primo ammostamento era un'acqua molto ricca di zuccheri da cui si faceva poi un mosto e poi una birra particolarmente concentrato dopodiché si faceva lo spargo, cioè il lavaggio quindi con acqua calda si lavano i chicchi di cereale dove ancora ovviamente attorno c'è tanto materiale da recuperare quindi con acqua calda si butta sopra, si fa un lavaggio delle trebbie ricaviamo ancora un mosto ovviamente molto meno denso, molto meno zuccherino solitamente si facevano due lavaggi quindi il primo per gravità, si otteneva il primo mosto e due lavaggi consecutivi il secondo e il terzo, quindi meno concentrati proprio questi tre diversi mosti, diversi per densità e che davano poi tre diverse birre derivavano tre differenti birre che nel caso delle ace, poco o zero luppolo la prima veniva chiamata strong oppure old old perché essendo così robusta poteva invecchiare il secondo veniva chiamato common, il secondo mosto e il terzo mild oggi trovate sia il termine mild sia in alcuni stili il termine common tipo le California common sono appunto dei nomi che derivano storicamente proprio da questa fase quindi il primo strong, il secondo common, il terzo mild nel caso delle beers, quindi di birre con luppolo il primo mosto più forte veniva chiamato stout che significa forte infatti in inglese il secondo beer e il terzo small cambia ovviamente la densità di questi mosti non cambiava il colore delle birre che erano diverse sfumature di bruno perché ricordiamoci che siamo sempre appunto in un momento in cui la birra è sostanzialmente una brown ale ovviamente oltre a cambiare la quantità di zucchero e la robustezza e il corpo di queste birre cambiava molto anche il prezzo perché sebbene le strong e le stout quindi i primi dei tre mosti ottenuti fossero sicuramente più interessanti dal punto di vista organolettico eccetera le mild, le small rimanevano sicuramente le più vendute perché più economiche e quindi accessibili a tutti erano chiamate proprio everyday beer pensate che una small costava almeno la metà di una strong questo per dire appunto la differenza di prezzi che c'era all'epoca a questo proposito si pensò quindi negli anni successivi di miscelare parte dei tre mosti di avere da un lato diciamo un profilo sensoriale più interessante come quello delle strong ma che costasse un po' meno una sorta di strong diluita con common e mild o mild e small insomma in base al fatto che state facendo una beers o una ale comunque l'idea è quella di ottenere tutti, cioè di mettere una parte dei tre mosti in un'unica botte e avere un prezzo intermedio tra i due estremi della più concentrata della meno concentrata e il nome di questa birra veniva chiamata entire butt quindi intera botte appunto e poi veniva chiamata solo entire questa tipologia di mix questo stile appunto ha molto successo a Londra in particolare tra gli scaricatori e i facchini del porto pluviale il cui nome inglese dei facchini è appunto porter il termine entire che indicava appunto la botte intera viene sostituito con il termine porter perché particolarmente diffusa in quella particolare zona e in quella classe sociale a metà del 1700 quindi con il termine porter si intendeva una birra relativamente economica lupolata perché siamo nella parte delle beers bruna ovviamente non nera bruna e legata alla classe proletaria londinese siamo ancora sempre parlando di birre brown l'altro momento cruciale del racconto della nostra storia è il 1817 quando Daniel Wheeler introduce sul mercato un nuovo tipo di malto che prima non esisteva il black patent si tratta di orzo torrefatto quindi il chicco d'orzo torrefatto come viene fatto proprio per il chicco di caffè il grosso vantaggio di questa tipologia di malto è che vi ricordate prima che si parlava appunto del compromesso che bisognava fare tra malti chiari per avere una buona quantità di saccaridi e i malti scuri per avere una buona caratterizzazione organolettica ecco qui con i malti torrefatti si possono usare percentuali molto piccole e riuscire a caratterizzare il profilo aromatico della birra e utilizzare quindi maggiormente malti che possano dare un buon apporto di monosaccaridi e polisaccaridi e di saccaridi principalmente e quindi diciamo che aveva il grosso vantaggio che poteva usare tanto pale come speravo di fare e caratterizzare a livello aromatico la birra con basse percentuali di malto black a Dublino c'è un certo Arthur Guinness che 50 anni prima aveva fondato una oggi famosissima impresa di produzione birre stiamo parlando della Guinness appunto e la Guinness incomincia ad utilizzare subito questo malto scuro perché appunto ha questo grosso vantaggio quindi questo ci dice che agli inizi dell'avventura di Arthur Guinness quello che venivano prodotti hanno sempre birre brown poi con l'introduzione circa mezzo secolo dopo dei malti black si incomincia a fare quel tipo di birra con quel tipo di malto in questo periodo incomincia a crearsi quindi la prima distinzione tra le porter irlandesi spesso più rotonde, più cremose e quelle britanniche tendenzialmente piatte e leggermente acide comunque più acide di quelle irlandesi stiamo ancora parlando di porter ovviamente il termine stout compare più avanti perché in quel momento è ancora legato semplicemente a versioni più robuste di altre birre cioè fino a metà del 1800 ci sono le pale stout per esempio quindi una pale ale ma se la faccio con solo la prima parte di mosto o comunque se io produttore ho una linea diciamo a media robustezza e poi ne faccio una versione più concentrata, più robusta, più densa, più forte quella sarà la versione stout della mia versione base quindi io birrificio la mia pale ale faccio una versione più forte e la chiamo pale stout o se la mia birra si chiama tecu faccio la stout tecu che è la versione più forte di quella stout che ho in linea e quindi via via che prende piede l'utilizzo di queste birre delle porter nascono anche le stout porter quindi versioni più forti più robuste, più alcoliche spesso delle porter porter quindi ricapitolando quelle birre brown molto diffuse nella zona di Londra eccetera passano dall'utilizzare malti brown ad utilizzare malti black questo nel 1817 ricordiamo arriva il malto black e da lì nascono versioni un po' più forti delle porter che sono le stout porter la cosa molto molto importante che secondo me ci fa capire bene come funzionavano all'epoca le cose è che appunto il termine stout indica semplicemente la versione più forte ma è una definizione sempre relativa al produttore per esempio io birre rificio X faccio una porter in questo modo poi faccio anche la versione stout della mia porter che è più robusta della versione porter di base che ho in produzione ma il birre rificio Y potrebbe già fare una porter molto zuccherina molto robusta eccetera e la sua porter magari essere più forte della mia stout porter quindi è tanto relativa questa definizione porter e stout porter al produttore ok fin qui è tutto chiaro ma perché poi si sono separati i due termini stout e porter ed è difficile quasi impossibile trovare una risposta precisa probabilmente diciamo che dal secolo successivo in particolare dal 1900 la moda e l'interesse si è spostato tutto verso le birre chiare le birre lupolate sia pelle sia poi oggi tutto quello che sono le lageri industriali semplici relativamente economiche da ottenere per le grandi industrie la stessa Guinness ha smesso di fare lo stile porter tradizionale e quella che brassa infatti da un secolo e più è la versione stout che è quella che appunto oggi viene commercializzata questo ci fa capire che già la versione stout di oggi ha comunque un basso grado alcolico sotto i 5 gradi ma probabilmente le porter originali non probabilmente sicuramente le porter originali hanno ancora più leggere sicuramente sotto i 3 gradi quindi non ci resta che secondo me andare a vedere cosa dice il BJCP e cercare di capire quali possono essere le differenze tra i diversi stili tenendo presente che ovviamente non esiste un disciplinare vincolante come per esempio esiste per gli unici due stili diciamo appunto disciplinati legalmente che sono Lambic e Colosh al di là di questi due stili particolari che devono essere prodotti in un certo modo e soprattutto solo in un certo luogo è interessante vedere che come da noi in Italia per esempio ci possano essere disciplinari legati alla produzione di salumi e formaggi nel resto del mondo o del vino banalmente nel resto del mondo esiste una tradizione brassicola e quindi si sono creati soprattutto recentemente disciplinari legati alla particolare di certi stili storici di beer appunto e quindi dobbiamo appunto fidarci al BJCP che è bene ricordare il BJCP il Beer Judge Certification Program oggi utilizzato come fonte per riuscire a capire le differenze tra tutti gli stili è un testo che nasce nel 1985 e l'ultima versione quella attuale sono le legne guida del 2015 si nominava che forse sarebbe stato aggiornato spero di no perché si fa davvero tantissima fatica a impararsi la memoria se dovesse cambiare qualcosa è un po' un suicidio comunque appunto un documento recente infatti in generale la classificazione attuale degli stili è un fenomeno molto recente che nasce più o meno negli anni 70 1970 intendo ovviamente essenzialmente per due motivi strettamente connessi il primo è che fortunatamente tutta la Beer Revolution che è partita dall'America ha investito anche l'Europa e quindi finalmente anche l'Italia nata appunto negli anni 70 ha fatto capire che c'è una grossa fatta di pubblico interessato a qualcosa che non siano le lager industriali praticamente e appunto diciamo che l'interesse verso altre cose è il secondo fattore importante che ha fatto nascere l'esigenza di creare questi stili è che grazie alla globalizzazione principalmente al libero scambio di merce idee informazioni eccetera oggi possiamo praticamente scoprire che esistono non solo appunto le lager industriali che quella grande industria vende nel mio paese ma appunto c'è dell'altro fuori da qui e sono un sacco di stili magari anche antichi o non per forza così antichi ma che sono rimasti limitati in una certa zona del mondo non posso quindi più dire la birra di Barton la Oxford Ale ma devo trovare un nome per quello stile perché io la birra di Barton oggi la posso fare qui a Milano per esempio con l'acqua di Milano che va corretta con i luppoli inglesi che compro e faccio arrivare grazie al libero mercato la mancanza di barriere commerciali eccetera ecco ovviamente ho citato l'esempio sbagliato dal momento che Barton fra poco sarà extra comunità europea ma posso ordinare luppoli dalla Germania un ceppo di lievito dal Belgio o magari farmi creare una cultivar americana avere il cascade in Brianza e cose di questo tipo cosa ha permesso ovviamente anche non solo la possibilità di conoscere altri stili la possibilità di brassare altri stili sia che io sia un ombriover sia che io voglio sia che io voglia avviare un'azienda e mettermi a produrre stili magari anglosassoni in Italia e così via quindi diciamo tutti insieme un bel grazie alla globalizzazione che ci permette di non bere solo le laghere industriali che trovo nel supermercato di casa ma che ci fa conoscere ci permette di scambiare informazioni con il resto del mondo quindi questi appunto sono i motivi per cui è nata l'esigenza di creare degli stili e quali sono gli stili che oggi il BJCP riconosce come porter e stout invece ne sono diversi appunto affidandomi solo al BJCP ho controllato anche il manuale della Brewer Association americana ma molte cose sono in comune quindi in questo caso prenderò il BJCP come riferimento allora le categorie sono queste che vi metto qui di lato stanno nella categoria 9 delle strong european lager ci sono le baltic porter quindi sono delle lager quindi nelle porter brassate ed è l'unico stile di porter quasi l'unico stile di porter brassato con lieviti da bassa fermentazione poi ci sono le brown british beer e in questa categoria ci sono le english porter ci sono le irish beer con le irish stout ed extra stout poi ci sono le dark british beer e poi ci sono le sweet stout a volte indicate anche come milk stout le hot milk stout quindi stout con l'avena le tropical stout e le foreign extra stout che sono un altro esempio un po' particolare e poi ci sono quelle americane american porter e stout e le russian imperial stout che nonostante russia sono le imperial stout di stampo americano in questo gruppo delle imperial stout fanno parte anche le pastry stout di cui ci sono due video molto recenti il video credo due video e tre video prima di questo c'era la kentucky breakfast stout e la festa di lambrate e white egg piccolo bonus esistono le porter pre-proibizionismo in questo gruppo ci sono le porter che possono essere abbrassate sia ad alta sia a bassa fermentazione e ho aggiunto anche le schwarz beer che sono beer european lager bassa fermentazione quindi ma hanno qualche punto in comune con le porter e le stout cercando di fare una veloce carrellata partiamo dalle baltic porter si chiamano così perché è nate più o meno nell'ottocento tra polonia russia scandinavia sono porter brassate a bassa fermentazione quindi sono lager hanno diciamo una minore presenza di tostato rispetto a quelle britanniche diciamo inglesi irlandesi eccetera sono meno amare meno amare sono più alcoliche diciamo che il range tra i 6 e mezzo e i 9 gradi e mezzo e possono avere sentori fruttati in frutta rossa tipicamente queste sono le baltic porter spostandoci tra quelle inglesi c'è la categoria della 13c english porter sono solitamente colore marrone chiaro da marrone chiaro a marrone scuro ma non sono nere hanno dei riflessi rubino sono sempre limpide e una schiuma diciamo color crema tipicamente ecco l'aroma qua in questo caso va da toffee caramello cioccolato biscotto possono avere il tostato ma solo se il tostato è secondario al cioccolato quindi sono porter quindi storicamente pensiamolo come birre meno forti e quindi possono avere sì il tostato ma secondario rispetto agli aromi più tipicamente brown è assente ed è da considerarsi un errore se c'è la caratteristica sensazione di bruciato quella che c'è in altre birre per esempio in alcune irlandesi anche sì ci può essere luppolo ma deve essere sempre secondario può essere uterroso o floreale stessa cosa in bocca il gusto identico al naso è ammesso in questo caso un po' di tostato un po' di caffè un po' di liquirizia ma sempre in supporto a sentori di malto corpo leggero carbonazione media il grado alcolico tra i 4 e i 5 gradi passando invece c'è le irish quindi non siamo più in english porter ma irish stout ed extra stout termine stout quindi le immaginiamo un po' più forti la differenza è principalmente nel grado alcolico tra le stout e le extra stout entrambe sono nere con riflessi granato opache hanno uno schema densa cremosa color crema a volte anche rossiccia qui l'aroma è torrefatto ed è caratterizzante il torrefatto è sempre verso il caffè in questo caso il cioccolato è secondario rispetto alle english porter dove invece è il contrario i lupoli sono di solito assenti se sono presenti possono essere terrosi o floreali ma sono assenti solitamente il gusto appunto è o cereale o malto torrefatto qui è il torrefatto a essere più importante e l'equilibrio è sempre spostato sull'amaro grado alcolico come dicevo per le irish stout 4,4 e mezzo per le extra stout tipicamente 5,5 6,5 ovviamente il BJCP mette questi limiti se una birra a 5 gradi è una stout o extra stout starà al produttore indicare e scegliere quale stile indicare appunto sulla bottiglia spostandoci sul term sulla categoria delle dark british beer categoria 16 dove il BJCP specifica e precisa bene che termine british ha un più ampio significato di isole britanniche quindi non solo Gran Bretagna ma alcuni isili sono appunto anche irlandesi la categoria diciamo che include le versioni più moderne ci sono le sweet stout o milk stout e sono più dolci di solito sono più dolci perché hanno bassi livelli di amaro nel caso delle milk stout viene aggiunto il lattosio per ottenere una sweet stout senza lattosio ovviamente si tiene un'alta percentuale di destrine in fase del mosto quindi zuccheri non fermentabili che daranno un po' più di dolcezza il termine milk stout non è ufficialmente riconosciuto come stile del BJCP ma è indicato come tipologia di sweet stout dal BJCP esistono poi qui le hot milk stout che sono le stout con l'aggiunta di avena e come dice lo stesso BJCP l'impronta data dall'avena può variare parecchio quindi può esserci un po' di tutto riassumendo ciò che dice il BJCP diciamo che è un incrocio tra una Irish extra stout e una sweet stout con l'aggiunta di avena calo alcolico del stout all'avena tra i 4,2 e i 5,9 tropical stout si distinguono in questo caso per l'aroma che c'è un parallelo tra i sentori classici dello stile stout e il fruttato melassa frutta secca anche liquirizzi a volte vino si ricorda a volte ricorda proprio sia la frutta rossa me ne capito di assaggiarne indicata proprio come tropical stout forse solo una e c'è praticamente non dico che ricorda gli esteri fruttati di certe birre beliche però si sente proprio caffè e frutta riassumendo quindi il gusto di una sweet stout ma arricchita il naso con ulteriore fruttato può ricordare a volte anche alcune imperial stout infatti il grado alcolico può arrivare fino agli 8 gradi per le tropical stout e diciamo che non c'è quindi l'amaro così elevato non c'è un torrefatto così robusto e la lupolatura è un po' secondaria insomma più dolce e meno lupolata delle stout americane ma molto più dolce e meno amara delle stout diciamo export stout delle stout irlandesi 16D finiamo con le foreign extra stout che è difficilissimo distinguerle dalle Irish extra stout da quello che ho capito incrociando i dati dovrebbe essere semplicemente più alcolica delle Irish extra stout ma non arriva diciamo a una così intenso livello gustativo come quello delle Russian imperial stout in questo caso appunto il grado alcolico è tra 6,3 e 8 gradi ci spostiamo negli Stati Uniti con la categoria 20 American Porter e Stout sono stili tendenzialmente più recenti sono BR generalmente più robuste più alcoliche possono essere incentrate sui luppoli non per forza americane ma tendenzialmente sì varietà americane di luppolo e indovinate un po' è previsto dry hopping tanto per cambiare le due categorie principali sono American Porter e American Stout questi due stili diciamo che riflettono più o meno quella che dovrebbe essere almeno storicamente la differenza tra Stout e Porter infatti la American Stout non è altro che la versione più forte più robusta più alcolica più corposa più intensa a livello proprio di sentore olfattivi dell'American Porter le caratteristiche di base sono queste l'American Porter è quindi più amare più secca di una English Porter è più luppolata se c'è il luppolo anche in questo caso è luppolo terroso erbaceo e può essere anche resinoso come molte varietà americane ma non ci sono mai ovviamente in questo caso esteri fruttati l'unica con gli esteri fruttati evidenti ricordiamoci è solo la Tropical in questo caso no grado alcolico fino a 6 gradi e mezzo l'American Stout quindi pensando come versione più forte dell'American Porter è una Stout alcolica in questo caso molto torrefatta molto amara molto luppolata ed è praticamente simile alla Extra o Export Stout diciamo britannica sia nell'amaro sia poi nel gusto torrefatto molto incisivo le versioni più forti di American Stout rientrano in quello stile che sono le Russian Imperial Stout ed è quasi impossibile distinguerle anche in questo caso ci si rifà a ciò che scrive il produttore se vuole indicarla come American Stout o come Imperial Stout o Russian Imperial Stout che ricordiamo nonostante il termine Russian le Russian Imperial Stout sono uno stile americano comunque nato in America e comunque classificato dal BJCP nelle Stout di stampo americano arriviamo quindi alle Russian Imperial Stout o anche solo Imperial Stout leggo direttamente la definizione del BJCP perché è secondo me perfetta dice solida e scura e con gusti intensi con un'ampia gamma di equilibri gustativi e interpretazioni regionali vabbè possiede una maltosità torrefatta bruciate insieme a gusti intensi di malto scuro di frutta secca con un finale dolce amaro e caldo nonostante gusti intensi le varie componenti devono fondere insieme perché era una birra complessa e armoniosa e non un pasticcio alcolico cosa che ricordiamo anche nelle Pastry Stout che è la grossa difficoltà di riuscire a creare delle Pastry Stout infatti interessanti colore può essere marrone rossiccio ma tendenzialmente scure nero corvino birra opaca schiuma marroncino marlore scuro con un cappello archetti dovuti all'alcol cioè muovendola in questo modo la birra nel bicchiere si possono vedere degli archetti dovuti all'alcol che in questo caso vedo big spoiler e l'aroma è sempre ricco complesso c'è del torrefatto c'è del cioccolato c'è del caffè frutta secca malti scuri malti speciali si in qualche caso esteri fruttati tendenzialmente solo susine prugne uvetta frutta sotto spirito qualcuno ha detto poco fa luppolo è solitamente basso ma anche aggressivo quindi tutti i range possibili di luppolo ovviamente si sente l'alcol non deve sentirsi il solvente perché se finisce nel solvente ovviamente è un difetto e il corpo deve essere sempre pieno anche molto pieno in certi casi quasi masticabile vedi le paste stau descritte poco fa il corpo può diminuire con l'invecchiamento carbonazione bassa volume alcolico dagli 8 ai 12 gradi le ultime due categorie che ho inserito giusto per completezza in questa lista sono appunto nelle birre storiche le categorie 27 G le pre prohibition porter sono praticamente delle porter che venivano prodotte a filadelfia durante la rivoluzione americana fine del 1700 con oro smaltato piccole percentuali di maltiscori black chocolate brown tipicamente non direttamente l'orzo torrefatto a meno che appunto non si usi i malti black e roasted sono accettabili aggiunte di mais fino al 20% mais ma anche altri succedanei 20% del grass totale ovviamente è interessante perché in alcuni stili non è possibile utilizzare il mais però ricordiamoci che siamo in America la stessa tradizione secolare dei whisky in America ha dovuto scontrarsi con la presenza abbondante di mais e i whisky barbon tennis whisky eccetera hanno assolutamente un 50% di mais cosa che farebbe accapponare la pelle a uno scozzese gli lieviti in questo interessante sia lager sia ale quindi sia alta sia bassa fermentazione diciamo che veniva fatta con quello che c'era in quel momento l'accento principale però è sui luponi americani da amaro in particolare cita il BJC Pille la varietà cluster e cascade altra categoria che ho inserito in questo elenco perché è interessante è perché ne ho bevuta una buonissima di picco brew in inglese recentemente la schwarzenegger buonissima e secondo appunto le schwarze beer sono lager bassa fermentazione birre scure tedesche qui c'è equilibrio tra malto torrefatto molto delicato e l'amaro anche in questo caso piuttosto moderato corpo leggero e dice il BJC P corpo leggero secchezza mancanza di retrogusto aspro o bruciato l'arena una birra parecchio beverina confermo rispetto alle dunkel è più scura più secca più amara ma più leggera di corpo e ha un diciamo malto torrefatto comunque percepibile in bilanciamento al malto base cosa che manca però il torrefatto così ben percepibile nelle dunkel ovviamente bene abbiamo fatto quindi una mega panoramica di quali sono gli stili e i sottostili che rientrano alle categorie a porter e stout se dobbiamo proprio proprio fare un mega 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 riassunto pensiamo quindi alle stout come versioni più forti e robuste delle porter anche se abbiamo visto che non è proprio così soprattutto con i nuovi stili e non ci resta quindi che scoprire la birra in questione di questo quiz che cosa avete pensato? allora io a memoria conoscevo già questa birra prima di andare a leggere l'etichetta me la ricordavo come imperial stout o russian imperial stout ma sorpresa sorpresa la birra in questione è la gonzo di flying dog birrificio americano ed è indicata come imperial porter che mi fa un po' sorridere perché appunto non esiste lo stile imperial porter ma sicuramente il termine imperial già ci fa immaginare che sia una porter molto robusta appunto non esiste il termine imperial porter possiamo pensarlo come imperial stout e probabilmente se la dovessimo iscrivere a un concorso valutato secondo le linee guida del BJSP sarebbe scritta immagino come imperial stout non come porter perché già con il grado alcolico che sono 9 gradi a 2 già uscirebbe dallo standard consentito se questo appunto ci fa riflettere sul fatto che poi la denominazione che viene data non essendo vincolante al di là appunto dei due stili citati prima colch e lambic dove non posso fare un lambic a milano a chiamarlo lambic perché mi arrestano ma posso indicare io produttore uno stile anche non ovviamente identificato dalle linee guida del BJSP e indicare quindi uno stile che secondo me descrive la birra così come ce l'avevo in mente io mastro birraio e quindi poi sta a noi capire se la vogliamo inquadrare nelle linee guida del BJSP in quale potrebbe, in quale casella potrebbe essere inserita questa birra complimenti quindi a chi ha indovinato lo stile e direi che la puntata piuttosto lunga si è conclusa scollo Grazie mille Grazie per la visione!